ciao a tutti benvenuti all'appuntamento contante gli scacchi signori campionato degli stati uniti d'america a sniman decide di portare una ventata infuocata in questo torneo qualcosa di infernale questa partita andremo a cercare di capire il nuovo stile adottato da hans niman ma prima di cominciare mi raccomando like e descrizioni attivate le campanelle per avere tutte le notifiche ora dominguez il suo avversario coi pezzi neri l'esule cubano il toni montana dei scacchi era imbattuto da 42 partite quest'uomo qui questo dominguez aveva una delle migliori strisce di imbattibilità al campionato degli stati uniti tra l'altro non è neanche la migliore perché la migliore appartiene ancora a reschewski 86 partite senza sconfitte dominguez credo sia al quinto posto comunque 42 partite senza mai perdere calcolando che campionato degli stati uniti cosa 9 11 turni più o meno siamo lì infatti i conti questo sarà da cinque anni che non perdono la partita campionato degli stati uniti ok non è semplice perché campionato degli stati uniti troviamo carovana wesley saw shankland e adesso troviamo neemann ok bene signori ma neemann neemann che cosa di speciale che lui riesce a trasformare un gioco piano una partita italiana in qualcosa di veramente apocalittico ha spalancato le porte dell'inferno a sniman è indemoniato signori è indemoniato già con caruana non è stato precisissimo e si è dovuto accontentare del mezzo punto poi lui ha ammesso che con il nero la sua strategia è quella di essere solido ma col bianco signori sembra di vedere all'opera davvero giocatori di un'altra epoca in stile romantico però neemann riesce secondo me a modificare lo stile di gioco ha modificato veramente il modo di giocare a scacchi perché lui crea la tempesta pedonale no con g4 h4 ok i pedoni dell'altro dire ma dopo aver raccato corto è quello che tutti facevano con la rocco lungo lui lo fa con la rocco corto lì sparte i pedoni che ha davanti al re ma andiamo a vedere questa partita davvero diabolica dove neemann costruire costruirà la catapulta infernale praticamente la batteria del diavolo l'ascensore per l'inferno ovviamente ha messo due torni pernigotti in colonna e ha cominciato andare su e giù ok per i vari gironi dell'inferno alla fine dominguez ha dovuto battere in ritirata va bene 42 partite senza perdere le ottenute però con neemann non si può doveva per forza crollare questo record ok doveva per forza crollare perché neemann non è un essere umano ok quindi guru paypal abbiamo avuto grifi come istruttore c'è qualcosa in quel ragazzo di non tanto normale ok 1 e 4 la parte anima e 5 tipica apertura di gioco piano partita italiana anima la rocca corte quindi niente gambetto italiano e niente attacco greco tarcaz ok a rocca subito perché il gioco piano oggi giocano così la tatticum viene nel centro partita viene dopo quindi prima stiamo abbiamo hanno spagnolizzato la partita italiana adesso vi faccio vedere come cavallo f6 d3 d6 apre lo sportellino per il vescovo il nero è un sviluppo tranquillo come potete dire simmetrico ok c3 magari c3 è fondamentale in questi schemi per non far giocare il cavallo sulle cale schiure in d4 con b4 e poi provare o un attacco sull'ala di donna oppure una nuova manovra che adesso non vi farà vedere a rocco corto torre 1 manovra tipica della rui lopez attenzione a 5 a 5 a cosa serve a impedire b4 è naturale ma questo è proprio quello che vuole niman perché niman vuole spagnolizzare la rui lopez prima si garantisce il fatto di non farsi inchiodare il cavallo quindi h3 nelle rui lopez la vediamo sempre abbastanza presto nell'apertura h6 anche il nero non vuole farsi inchiodare sviluppo del cavallo sviluppo del vescovo questa qua è una linea abbastanza moderna ovvero il nero cerca di togliere l'importante vescovo sulla diagonale a2 g8 che è questa diagonale chiara cercando un cambio e in caso di cambio aprirebbe la f e si costruirebbe una struttura pedonale molto rocciosa al centro con possibili spinte però niman non accetta il cambio va in b5 quindi sta praticamente giocando una rui lopez ok siamo in una rui lopez ma qual è la differenza per il nero che aveva sviluppato il vescovo in c5 quando in realtà il vescovo sta bene in e7 nella rui lopez e nella rui lopez abbiamo anche la possibilità di giocare cavallo a5 oppure abbiamo la possibilità di giocare cavallo b8 cavallo d7 però avendo già fatto a5 il cavallo sarebbe stato buono riciclarlo in d4 ma in d4 non si può più perché ha giocato c3 quindi viene fuori una rui lopez migliorata per il bianco ok quindi sposta il vescovo qui dominguez perché non vuole prendersi d4 in faccia e perdere un tempo dopo cavallo c4 niman però gli sta dicendo guarda o mi dai la coppia oppure io questo cavallo qua me lo tengo e me lo riciclo come voglio posso addirittura giocare a vescovo e3 cambiare questo forte vescovo posso fare quello che voglio addirittura mettere il cavallo cavallo e3 cavallo h4 e due cavalli che guardano su f5 la casa importante tutte le rui lopez è la casa f5 bene per attaccare sull'adira ora dominguez non vuole dare la coppia dice ma io ho fatto l'esule da cuba come toni montana per cosa per nulla per regalare la coppia di vescovi al primo primo passato per me veramente la coppia di vescovi e come il permesso di soggiorno lo devo ottenere ok ecco qua la manovra di niman da rui lopez il vescovo andrà in c2 qui dominguez fa una scelta perché niman ha detto io l'ho scoperto l'ho scoperto che tu sei un esule clandestino sei venuto qui solo per i dollari perché a cuba non giro nei soldi hai capito caro il mio dominguez prima giocavi per fidel castro adesso che il regime è andato un po arabello tu vieni qui per i per i scaccondollari te li do gli scaccondollari aspetta aspetta no non mi non mi denunziare ti do la coppia di vescovi se non mi denunzi da coppia di vescovi in cambio dalla doppiatura dei pedoni qui il gioco è praticamente pari bianco ha una leggera iniziativa data proprio da questa coppia di vescovi vediamo qui dominguez se ne esce fuori con la novità generalmente qui si gioca cavallo h7 per provare magari qualcosa con f5 visto che il vescovo non controlla più questa diagonale cercare una reazione con f5 che però il cavallo è più sicuro in h7 mentre qui potrebbe essere scacciato però adesso niman giocherà una mossa ok che ha sorpreso dominguez la mossa infernale mossa delle sue g4 di puntarruolo che è scorretta questi attacchi troppo come dire anticipati sono generalmente scorretti nella vecchia scuola sovietica se a scuola davanti al maestro giocavate in questo modo qua vi davano delle bacchettate sulle dita vi portavano a fare l'intervallo in siberia ok perché per i sovietici era più importante il controllo delle case non creare buchi ok era più importante il gioco posizionale ma qui siamo in un'altra epoca cioè siamo tornati nell'epoca pre sovietica dove si gioca al coltello come i macellaio ok e niman è il nuovo macellaio secondo me degli scacchi io sono macellaio degli scacchisti pepino meccanici ma lui diventerà il macellaio dei tops bene qua cavallo f6 dominguez deve salvare il pezzo è qui di puntarruolo signori perché a sniman è un tanista è un tanista sotto mentite spoglie che lui vede i nostri video li guarda vede tutte le mie aperture le mie linee di puntarruolo le mie novità le studia da me niman avete capito altro che gambetti vaticani gambetti italiani gambetto di san marino no 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 lui è onesto sulle aperture poi però va di puntarruolo va di puntarruolo guardate qui apre tutto si apre davanti il resto lui se ne frega lui se ne frega perché lui è un demonio lui è posseduto avete presente quando vedete i film dei posseduti esorcista ma gli puoi anche sparare un caricatore addosso questi continuano a volare per la stanza ok lui se ne frega se ne frega va di puntarruolo sberlucco sberlucco inchioda il camallo qui si toglie dall'inchiodatura dominguez punta il pedone in h3 io contro gioco sei un colabrodo sulla dire il tuo re è scoperto il mio più sicuro ma questa è una partita di una genialità assurda niman difende il pedone con il re il resta benissimo qui nessuno lo può toccare e si apre lo sportellino per ritorno i pernigotti attenzione e qui dominguez dice io questa coppia di vescovi la voglio indietro ok perché io sono cubano però ho spirito americano adesso io mi sento in debito con gli stati uniti d'america che mi hanno tolto dalla miseria cubana dovevo andare a giocare a scacchi per un tozzo di pane due polipi ci avevo i polipi che mi uscivano dalle orecchie otto ore al giorno a studiare scacchi e mangiare polipi la mattina alla sera avevo le scarpe di fabbricazione sovietica che si bucavano ad ogni passo che facevo e tutte squarciate andavo vestito la stessa maniera per vent'anni di fila dovevo andare in bicicletta perché non si poteva consumare la benzina c'era una crisi petrolifera e invece qui negli stati uniti posso fare tutto quello che voglio comprare anche il giubbottino di pelle al mio figlio perché ha portato anche il figlio domenica si ha fatto anche suonare la campanella d'inizio turno sembrava fonzi il figlio di dominguez però anima non si fa impietosire del figlio il giubbottino sei diventato ricco tu sei venuto qui negli stati uniti e ti faccio vedere faccio vedere come un nativo perché io sono nato negli stati uniti sono nato a san francisco che è in mezzo alla strada sulle strade di san francisco mentre tu sei nato a lavana ok e allora bene e sei anche un cattolico papista romano pure hai capito io invece sono protestante e ti faccio un mazzo tanto bene e guardate qua cominciamo con le super mosse torna il pernigotti in faccia re ragazzi qui dominguez prova a portare pezzi nel rettangolo però rock deve portare i pezzi in difesa cominciava paura guardate qui che bello questo rock cliff l'ha imparato da john il suo trainer il suo mentore ok prima di morire avvelenato dallo stesso neemann col tegolino al carbonchio anzi john griffy gli ha insegnato il rock cliff nello sgabuzzi ok bello questo un fianchetto tra l'altro trone pernigotti in fianchetto dello sgabuzzi il fianchetto dello sgabuzzi ok dove gioca benissimo che bello vuole vuole raddoppiare ma non con la donna vuole portare l'altro trone pernigotti signori sta costruendo l'ascensore per l'inferno ecco dominguez anche lui guarda i video della tana e dice proviamo a mettere pezzi nel rettangolo per un rocco sappiamo che cosa vuol dire un rettangolo per un rocco sguarante i pezzi animano giustamente adesso io questo lo tengo mi tengo la coppia non ti faccio cambiare pezzi mi servono tutti mi servono e dominguez io guardo tana degli scacchi anche se sono un immigrato cubano tra l'altro pure dissidente ok che è scappato solo per i soldi e rinnegato proprio guardo tana degli scacchi e riempio il rettangolo per la rocco ok bene e qui liman prepara la strada secondo torno pernigotti guardate come commovente dominguez qui ha messo due pezzi addirittura nel rettangolo per la rocco potesse ce ne mette quattro e liman inizia con l'ascensore avanti ascensore per l'inferno perché ha giocato il torno e pernigotti in g4 perché non vuole probabilmente evitare poi l'entrata del cavallo e la cattura con la donna quindi vuole evitare cavolo f5 che lui cattura e vuole evitare la ripresa di donna con scacco e quindi mette il torno e pernigotti in g4 spinta dal pedone prova la reazione chiaramente dominguez io ho imparato a giocare a scacchi a cuba mica nella repubblica domenicana però liman arriva qui torno pernigotti sposta il re dei raggi x liman sposta il vescovo lo mette su questa diagonale vuoi mica che si apra una diagonale che succeda questo sposta anche il vescovo perché anche anche dominguez dice sono capace anche anche se ho il permesso di soggiorno scaduto sono capace anch'io tornare indietro quei vescovo e qui inizia l'ascensore guardate le manovre di niman di nuovo torno e pernigotti in sgabuzzino non gli basta metterne uno gliene mette due prima ha messo il torrone cioè questi non sono scacchi secondo me queste qui siamo al limite del voodoo qua cioè è un rituale questo non è una linea di scacchi che sta facendo un rituale satanico perché qua qui torno i pernigotti cioè prima ha messo il testo torno in g2 e poi l'ha messo in g4 e per mettere l'altro due torroni pernigotti in sgabuzzino avanti 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 ma cosa vuole fare vuole triplicare vuole metterci anche la donna fare il cannone di ali e che cosa vuole fare ma qui dominguez vuole tenere le case schiure e qui il sacrificio di pedone mostruoso a parte di niman niman vuole scollacciare la struttura del questa tra virgolette non era neanche indispensabile perché si poteva già continuare con h4 h5 da un pedone così random qui stiamo vedendo il niman un niman alla alla wolf qui all'alicantro una cosa spaventosa eccolo qua h4 di punta ruolo anche dominguez dice che non è capace di giocare di punta ruolo a cuba e allora perché non ci sei rimasto h5 avanti di punta ruolo sposta il cavallo e adesso qui barrucchiamo il pedoncello e non ce lo prendiamo e qui dominguez vuole cambiare i torni per nigotti guardate l'ascensore per l'inferno l'ascensore per l'inferno fa tutti i gironi tutti i gironi dell'inferno tutte le fermate questo è l'ascensore per l'inferno ma guardate nemmeno adesso che cosa giocava migliore del motore una mossa da alfa zero alfa dio stockfish lucifero fate quello che volete torne per nigotti in g3 la migliore del motore perché vuol far catturare a dominguez e dominguez va in tilt lui pensa all'ala di donna pensa di resistere qui la migliore del motore ancora niman porta pezzi in avanti sberlucco adesso sberlucco di vescovo attacca la donna e qua signore game over dominguez sposta la donna e qui niman favoloso donna f3 qual è l'idea dare scacco e poi sbarrucare il torne per nigotti dominguez dice vabbè tolgo il cavallo così adesso ho il vescovo se dai scacco sberlucco di vescovo non si è accorto che perde la partita è un mega blunder qua dominguez ha visto veramente aprirsi no lo sportellino dell'ascensore con le fiamme dell'inferno ma io volevo soltanto fare l'immigrato regolare negli stati uniti non è colpa mia volevo comprare il giubbottino di pelle a mio figlio a cuba non c'erano i giubbottini di pelle c'erano solo i polipi che ci uscivano dalle orecchie mangiavamo polipi da mattina alla sera non è colpa mia scusami scusami invece niman impietoso no come deniro in ascensore per l'inferno no tu hai peccato perché dovevi rimanere sulla tua isola di disperati scacco sberlucco parte la qualità scacco qui adesso niman chiude la favola con l'unica mossa che vince mossa geniale mossa geniale signori mossa geniale forse non è l'unica che vince però insomma è una di quelle che fanno a caponare la pelle tra l'altro ne vincevano molte anche questa donna g3 ma l'unica che dà spettacolo questo è l'unica che da spettacolo doppi punti sclamativo signori doppi punti sclamativo spaventoso che succede se sberlucca la torre si sberlucca la torre c'è matto in poche mossa perché diamo scacco e qui vai dove vuoi su casa schiura scacco e poi mossa se non cattura deve spostare la donna ok mettiamo che sposti la donna tenendo ancora in vista in difesa il che può succedere qua è sempre scacco scappiamo sulle case schiura è qui la fagiolata scacco sacrifici torno e pernigotti non si può prendere altrimenti c'è matto scappi scopertoide parte la donna di tutto di tutto e di più guardate questi torroni pernigotti come hanno deturpato il povero il povero dominguez ascensore per l'inferno bene signori vedete questi bei torroni pernigotti andiamo a vedere un attimo come la precisione vedete il grafico vediamo un po qua 96.1 95.1 per neiman quindi non ma non precisissimo però neiman lo sappiamo tutti com'è non è preciso neiman ti assale no ti assale anche con qualche mossa un pochino così dubbia no ma lui non è pulito lui è sporco lui vuole sporcare la partita lui ha le mani imbrattate di sangue come macellare quindi deve anche crearsi lui delle debolezze pur di attaccare e alla fine vedete che dominguez ha retto per un po poi quando i torroni pernigotti sono arrivati veramente a bussare la porta purtroppo a forza di bussare alla porta sbagliata ti risponde il diavolo ovvero Hans Neiman e il povero dominguez può anche mettere da parte i sogni di gloria per vincere il torneo dei campionati degli stati uniti in testa ci sono caro vana neiman sevian e wesley so sono curioso di vedere il derbissimo con sevian il derby della la croce della spezzata voglio vedere questa volta cosa gli combina sevian bene caruana rimane il favorito per vincere però questo neiman signore questo neiman è da tenere d'occhio quindi niente adesso ci vediamo poi prossimamente mercoledì ci sarà la premiere con l'apertura poi personaggi misteriosi trovando un mucchio di personaggi favoloso ne ho trovato uno signore che fra forza supera anche wolf qualcosa di abominevole bene con questo è tutto mi raccomando like in descrizione attivata la campanella ciao e arrivederci